Il raddoppio della tratta ferroviaria in Poligrana Iolo si farà, il lungo lavoro politico e di mediazione fatto anche dalla Regione che negli anni ha trattato con Governo e Ferrovie dello Stato e che ha sempre creduto e insistito per il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria sta andando i suoi frutti. Queste parole sono dell'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli che ha incontrato a Roma l'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile e da lui ha avuto conferma del fatto che in Toscana, oltre al raddoppio della tratta ferroviaria a Pistoia Lucca, si procederà anche a quello della Impoli Granaiolo. Il raddoppio di questo tratto ferroviario strategico per potenziare e migliorare i collegamenti ferroviari della Valdelsa e di Siena con Firenze e l'alta velocità è in fase di progettazione da parte di RFI. Si tratta di un'opera del valore di 40 milioni di euro che il Governo si è impegnato a finanziare a partire dal 2018. Con impegno a Sido, ha detto ancora Ceccarelli, si possono raggiungere anche risultati che sembrano difficili da concretizzare. In Toscana stiamo lavorando su più fronti per migliorare ulteriormente il trasporto su ferro e questa è una vittoria importante che ci spinge a proseguire su questa strada. Già oggi siamo riusciti a portare la regolarità delle corse al 92%, conclude Ceccarelli. Un risultato importante che potrà migliorare ulteriormente grazie anche a questi investimenti per il potenziamento delle infrastrutture. Commenti positivi sul raddoppio della Empoli Granaiolo sono stati espressi dai parlamentari PD Luigi Dallai e Laura Cantini.